Come ha fatto una buona sgambata, considerata anche l'avversario, abbiamo provato a fare le prime cose che il mister ci ha insegnato in questa settimana e penso che ci sia da essere soddisfatti. È stato bello in questa settimana, si sono alternate qua tante persone, poi ieri durante l'amichevole c'era veramente tanta gente, sicuramente ci fa piacere che anche qua in Trentino siamo seguiti, poi avremo modo di arrivare ad Arizzo e fare una settimana là e sicuramente l'accoglienza mi hanno già raccontato i compagni dell'anno scorso, è stata stupenda, quindi ci aspettiamo tanto entusiasmo. Ma quella di Conte non la auguro a nessuno perché è veramente pesante, però è ovvio che dà i suoi frutti e quindi è importante lavorare sodo, quella di Allegra e quella del mister Astelli si equivalgono a livello di fatica e sicuramente partiamo positivi per la stagione che verrà. Quando ho sentito il direttore, soprattutto Capo Zucca, mi ha detto che avrebbe puntato su di me in qualsiasi ruolo. Io ho dato la mia disponibilità al mister per fare sia il terzino, sia la mezzala, sia l'esterno nel 3-5-2, quindi qualsiasi cosa deciderà lui, la metterò in pratica. Mi ha dipinto la città, sicuramente bellissima, quello lo sapevo già. Per quanto riguarda la squadra mi ha parlato di un gruppo di ragazzi giovani con molto entusiasmo e devo dire che le prime impressioni sono positive. Abbiamo trovato un gruppo molto giovane, con molto entusiasmo, parlando anche con gli altri ragazzi si vede che è un gruppo che l'anno scorso ha vinto il campionato perché come ho detto c'è molto entusiasmo, c'è molta intensità nelle partitelle, nel lavoro con la palla e questo è importante perché poi te lo ritrovi la domenica. Quindi da questo punto di vista sono soddisfatto io e sono soddisfatti anche tutti gli altri nuovi, penso a Arthur e a tutti gli altri.